Giulia Salemi è stata vittima di deepfake Sono state di nuovo prese delle mie foto e sono state ritoccate come se fossero foto intime e foto di me nuda Le sue foto intime false sono finite online Voi persone che avete fatto questa cosa a me siete lo schifo della società Denuncerò questa cosa, pagherete per questo Chi è che si è truccato ma comunque qui il foruncolo della strega? Hehehehe, io Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo appuntamento di TG Talk Il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok Giulia Salemi è stata vittima di deepfake Sarà vero? Sarà falso? O sarà che la gente che fa deepfake fa schifo al c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale E qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative a tutto quanto Gossip, drama e il meglio e anche il peggio di TG Talk Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok Visto che è di questo che parliamo dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi Nuovo TG Talk, nuove notizie super super shock Che vi devo raccontare Infatti a grandissima richiesta dopo giorni mesi anni Torniamo a parlare di una delle creator Che io amo più in assoluto Parliamo infatti di Giulia Sara Salemi La creator in questi ultimi giorni beh si è trovata al centro di una vicenda veramente orrenda Oggi infatti ci occupiamo di una tematica molto delicata Il cosiddetto deepfake Che cos'è? Beh innanzitutto fatemelo dire È una vera e propria piaga social e sociale dei nostri tempi Perché questo deepfake sostanzialmente funziona così Una persona che diciamo ce lo ha dei problemi secondo me Prende le nostre foto Foto in costume, foto in intimo Foto dove comunque siamo un pochino svestiti Bene Ma in realtà anche foto normalissime Di fronte a queste foto Questa persona ci toglie i vestiti In maniera come posso dire Con photoshop o comunque insomma con qualsiasi editor Che permette di modificare una foto E ci incolla delle parti intime che non sono nostre Poi le pubblica in rete e le spaccia per vere Questa purtroppo è una cosa che è successa a tantissime persone Sia famose che non Ricorderete tutti quanti quando accadde proprio A Chiara Ferragni e Fedez si arrabbiò molto sui social e ne parlò Ma a parte questo Il deepfake ha colpito anche la nostra Giulia Sara Salemi Infatti in questi ultimi giorni La creator si è letteralmente sfogata Pubblicando alcune stories su Instagram Nelle quali ha parlato Per l'ennesima volta Visto che non è la prima volta che le succede Proprio di deepfake Guardate È successo E sinceramente ho i brividi per lo schifo che sto provando verso queste persone Sono state di nuovo prese delle mie foto Normalissime E sono state ritoccate Come se fossero foto intime e foto di me nuda Non sono vere Qualsiasi persona stia acquistando A delle persone che stanno diffondendo questi contenuti finti Sappiate che siete stati truffati doppiamente E che voi persone che avete fatto questa cosa a me Ingiustamente pagherete per questo Perché ho trovato il vostro IP Denuncerò questa cosa Aspettatevi di pagare molto caro per questo Perché siete lo schifo della società Veramente non capisco perché Voi non abbiate una coscienza Non possiate capire Che gravi danni A me state facendo mentalmente Perché Veramente Non vi meritate nemmeno questo Questo mio schifo Questo mio dolore in qualche modo Che mi state provocando Anche se non lo meritate minimamente Ma pagherete per questo E la foto che è stata utilizzata da questi balfattori È proprio questa Ma andiamo a leggere Quello che ha scritto la nostra Giulia Sara Salemi Perché condivide questa foto e dice La foto originale era questa Hanno modificato la foto Per farla sembrare una foto intima Con Photoshop Ritagliando i vestiti Lo trovo incredibilmente sbagliato Pensa a sentire tua madre la mattina Che ti chiede se sei impazzita Mentre una persona Senza coscienza Sta guadagnando Dicendo di possedere Delle mie foto Intime Inesistenti E questa cosa ragazzi È una cosa Terribile Anche perché dovete sapere Che dietro il deepfake Dietro la creazione Di queste foto Assolutamente Finte C'è veramente un giro di soldi Incredibile Vi basta andare su Twitter Vi basta andare su dei gruppi Telegram E vi si apre un mondo davvero imbarazzante Ci sono persone Ci sono account Ci sono utenti Che veramente senza scrupoli Vendono dei pacchetti di foto E video E purtroppo Non sono soltanto Delle foto Fatte con il deepfake Quindi delle foto Intime False Purtroppo ci sono persone Che vendono Letteralmente Vendono Pacchetti di foto e video Di persone Senza il loro consenso Questa è una cosa gravissima È un reato Cioè voi pensate Guadagnare dei soldi Pubblicando Delle foto Anzi Vendendo delle foto Che non sono le vostre E che soprattutto Sono foto Intime Questa è una cosa gravissima E purtroppo È all'ordine del giorno Soprattutto su Twitter Dove dei profili Vi ripeto Senza scrupoli Mettono dei link Si fanno pagare Con Paypal Eccetera eccetera E hanno Il potere in mano Di vendere Delle foto False O vere Di persone Che non hanno La più palida idea Di quello che stia Succedendo Anche perché Un conto È abbonarsi Ad un profilo Allifans Dove il creator In questione È consapevole È cosciente È Come posso dire Consenziente Nel condividere Con altre persone A pagamento Le sue foto I suoi video Intimi Ma un'altra cosa È tutt'altra Questione È il fatto Di vendere E comprare Allo stesso tempo Dei materiali Intimi Di una persona Che non è Consenziente Che non sa Minimamente Che giro Stiano facendo Le sue foto E questa è una cosa Gravissima Cioè pensate Che ci sono persone Che magari hanno Mandato dei news Che magari hanno Mandato delle foto E dei video Intimi ad una persona E se li ritrova Poi online Purtroppo succede La cosa più grave Secondo me È Chi le vende Ma allo stesso tempo Anche chi le compra Cioè Io Sono scioccato Da tutto quello Che purtroppo Esiste Perché il web È anche questo Purtroppo Ci sono anche Tantissimi Lati positivi Ma questo è Uno dei lati negativi Della presenza Sui social E del web Ovviamente io Colgo l'occasione Per mandare Un grandissimo Abbraccio A Giulia Salemi Anzi condivido Innanzitutto Il suo coraggio Nel raccontare Sui social Ciò che è successo Anche perché Essere vittima Di deepfake Non deve essere bello Non deve essere bello Vedere le proprie foto Modificate Fatte passare Anzi spacciate Come vere Quando non è così Detto questo Vi ripeto Mando un grandissimo Abbraccio a Giulia E spero tanto Che lei Vada a fondo A questa vicenda E denunci Tutte quelle persone Che stanno vendendo Le sue foto intime False Perché è davvero Una cosa Inaccettabile Detto questo Andiamo avanti E continuiamo a parlare Di Giulia Sara Salemi Perché Perché In questi ultimi giorni Giulia Si è lasciata andare Ad una riflessione Sui social Per quanto riguarda Le critiche Gli insulti Le parole brutte Che si ricevono Sui social Ascoltiamo insieme Quelle che sono state Le sue parole E la sua riflessione Che ha voluto condividere Con tutti i suoi followers Su Instagram Guardate Questa è una confessione Super intima Mai avrei pensato Che un giorno Stare riuscita A esporla online Infatti ho messo pure Il filtro Close friends Però davvero Questa cosa Mi ha fatto stare malissimo E adesso me la sono tolta Un po' dalla testa Ho fatto un po' Un passettino avanti Perché Visto che molte persone Mi hanno criticata Cioè Poi stupidamente Perché so che Alla fine Nessuno mi conosce Realmente E non dovrei Prendermela sul personale Però sono una persona Molto sensibile E i commenti Anche delle persone Che non mi conoscono Mi toccano E sbaglio Vabbè Fa niente Quando leggevo commenti Tipo Mi sto innervosendo Quanto se la crede Non se lo merita Perché questa è famosa Non è che pensavo Poverino Poverino Che nella sua vita Sta sprecando il tempo Non solo a pensare negativamente E a dare peso Alla vita di qualcun altro Ma Mira a screditarla Commentando un suo video Quanto è messo male Perché io non lo farei mai Sinceramente Mi dispiace Per le persone Che lo fanno Perché dovranno Sistemare qualcosa Nella loro vita Perché una persona Che ha la vita Sistemata E a posto E pensa la sua Sicuramente non si sofferma A criticare Non solo nel suo pensiero Ma anche addirittura Ad avere il coraggio Di prenderlo E scriverlo E scriverlo pubblicamente Con quale intento Senza neanche Fare una minima critica Costruttiva Io per queste cose Non la pensavo così Semplicemente Pensavo che questa persona Fosse come me Cioè a posto Con la sua coscienza E che quindi Ci fosse un motivo Di preoccuparmi Di queste cose Che mi scrivevano Che fosse colpa mia Se queste persone Lo pensavano Il mio annientamento Psicologico È partito Dal fatto Che io Ho dedotto Che queste persone Che mi giudicavano Negativamente Mi giudicavano A partire dalla mia apparenza E quindi ho iniziato A fare della mia apparenza Il centro del mondo Cioè Cosa fa dedurre Questa cosa di me Se io mi Mi faccio le unghie rosse Cosa pensa la gente Che io sono volgare Non lo so Se io mi faccio vedere Un pochettino di più Cosa pensa Che sono una scostumata Se io mi trucco un po' di più Cosa sembro Non sembro una ragazza semplice Perché io alla fine Sono una ragazza semplice Non superficiale Amo stare sui libri Amo conoscere Se una persona mi sorride Mi cambia la giornata Eppure non sembrava questo E quindi io Ho fatto un sacco di decisioni Pensando a cosa La gente avrebbe pensato di me Sulla mia personalità E invece c'è da separare L'apparenza E la persona Perché quello che c'è dentro Non corrisponde a quello Che c'è fuori Tutto questo discorsone È nato da una cavolata Che mi è accaduta Pochissimo fa Quando ho scelto Di farmi le unghie Diverse dal solito Perché di solito Le faccio corte E neutrine Per apparire La ragazza carina Semplice Della mia età E non pensando Realmente a quello Che mi piace Perché poteva confondere La mia personalità Perché una ragazza Che si fa le unghie lunghe E rosse Potrebbe apparire Come volgare Una ragazza Addirittura facile Perché ormai La gente giudica così Cioè si fa delle deduzioni Una dietro l'altra E oggi invece Le ho fatte come mi piacciono a me Cioè dal mio colore preferito E sono qua A spronarvi A fare Una riflessione in più Perché veramente Ragazzi Così non riusciamo vivi Cioè la nostra società Veramente vive di superficie Cioè Siamo Siamo la società Della superficie Non importa più Quello che è il contenuto Se non appari bene Sei subito Non valido Che poi Se devo dirla tutta La stessa cosa L'avevo fatta con la musica Cioè Mi limitavo A fare canzoni Più pop E non osavo mai A fare quello che Realmente ho sempre Voluto fare Nella vita Cioè La rapper O magari buttarmi Più sull'urban Ed esagerare Anche nel testo E finalmente Ce l'ho fatta Per me Una grande soddisfazione E Proprio per fare Anche questo Passo avanti La copertina è rossa Come il mio colore preferito Le unghie sono rosse Genere musicale Cambiato Comunque Mi raccomando Ricordatevi Di fare il pre-save Perché domani A mezzanotte Bentley E si sa Dai momenti no Ma anche dalle critiche Dagli insulti Nasce qualcosa Di positivo Infatti E' già online Ovunque Il nuovo singolo Di Giulia Sara Salemi Bentley Io sono molto felice Anche perché Incrociamo le dita Spero tanto di Invitarla Ad asfalto fresco Mi sto già muovendo Per farlo E non vedo l'ora Di chiacchierare Un po' con lei Quindi l'aspetto A braccia aperte E sono sicuro Che sarà Un grandissimo successo Questa canzone C'è stata anche Una bellissima presentazione Insomma Tutti i pazzi Per Giulia Salemi E la sua nuova Canzone Bentley Che vedevo di Io già L'amo Arrivati a questo punto Però adesso Fatemi sapere Voi qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di questa orrenda Vicenda del deepfake Ma anche di questa Riflessione Finale Che Giulia Salemi Ha fatto Sulle critiche Sugli insulti Insomma Sul beccarsi Delle cose Da persone Che neanche conosci Ma che comunque Magari riescono In qualche modo A formarti Mettiamola così Il video Può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice In su Iscrivetevi al canale Se ancora Non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi E Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi ci abbiamo provato Ciao